una buona serata cari amici ben ritrovati si gioca si gioca tantissimo campionato coppa italia si gioca all'estero si giocano tante competizioni c'è anche il mondiale per club in corso e noi ovviamente siamo qui con grande voglia come sempre di parlare di grande calcio per quanto riguarda il weekend di campionato ne abbiamo parlato con il super commento ne abbiamo parlato anche ieri in live trovate tutta la live integrale e avete visto abbiamo deciso anche di sperimentare qualcosa di nuovo di regalarvi qualche pillolina presa dalla live di ieri pomeriggio divise per argomenti così per poter approfondire per poter rispondere in maniera specifica anche alle vostre domande però adesso parliamo di coppa italia perché è una tre giorni infuocata con i quarti di finale sfide secche l'inter ha battuto la roma 2 a 0 ieri sera ci concentriamo nello specifico su questa partita stasera ce n'è un'altra decisamente elettrica perché prevedo un milan lazio ad alta intensità il milan ha come obiettivo sicuramente quello di andare in semifinale la lazio però è squadra in crescita ci saranno anche energie da valutare nel post derby per i rossoneri e quindi anche stasera credo che avremo una partita molto divertente per poi avere un giovedì invece addirittura con con il raddoppio perché gioca l'atalanta alle 18 contro la fiorentina gioca la juventus alle 21 contro il sassuolo e per entrambe è un avvicinamento al big match di domenica sera al gevi stadium dove atalanta juve saranno faccia a faccia con in ballo molti dei destini del quarto posto tutti temi da affrontare in questa settimana li affronteremo insieme adesso però parliamo nello specifico di quanto ci ha regalato la serata di san siro la serata di ieri perché san siro si trova in campo anche stasera la vittoria 2 a 0 dell'inter contro la roma un gol a freddo di edingieco una perla assoluta nel secondo tempo di alexis sanchez che ha placato le voglie della roma nel momento forse migliore della squadra di giose morigio giose morigno che è stato il protagonista emotivo diciamo della serata perché per la prima volta tornava ad avversario sotto gli occhi del popolo dell'inter dopo avergli regalato lo storico triplete del 2010 diciamo che la reazione è stata quella attesa una continua dimostrazione di gratitudine e di amore inevitabile per quello che giose morigno ha fatto in nero azzurro poi però l'inter lo ha buttato fuori dalla coppa inter che reagisce immediatamente al derby regalandosi potenzialmente un altro doppio derby in semifinale anche se vi dico per per me siamo vicini al 50 e 50 come pronostico di milan lazio di questa sera però l'inter ha voluto dare immediatamente un messaggio lo si è visto dall'approccio alla partita un approccio fulminante inter andata avanti subito con un gol principesco del regale ed in gecko ancora in gol da ex contro la roma una una giocata di classe infinita da parte di questo centravanti a 360 gradi che è stato il migliore in campo della partita su assist puntuale peraltro di perisic e su una situazione difensiva della roma che poteva sicuramente essere più robusta poi l'inter è andata subito vicino al raddoppio con la traversa quasi quasi spezzata da barella con un gran tiro dalla distanza anche barella è stato un protagonista del match adesso analizziamo tutti i temi roma che ha cercato di rientrare nel match la parte migliore dei giallorossi io direi che è stata la prima metà ai primi 20 minuti del del secondo tempo con qualche aggiustamento fatto da mourinho nel corso dell'intervallo a livello più che altro di di compiti tattici è una roma che ha impegnato andanovic soprattutto con zaniolo zaniolo aveva già avuto una bella occasione nel primo tempo ha avuto altre due situazioni nel nel secondo però poi l'inter non ha commesso gli errori del derby non ha permesso alla partita di girare il gol spettacolare di alexis sanchez la chiusa e quindi l'inter con questo 2 a 0 si prende la semifinale e mette sul tavolo un po di temi quali sono i temi dell'inter in in questa giornata di post vittoria nei quarti di finale di coppa italia uno dei temi riguarda l'attacco ad esempio l'attacco dell'inter non è un problema non può essere considerato un problema perché è una squadra che segna segna tanto segna con tantissimi uomini segna in tutti i modi però la domanda che può alleggiare oggi visti anche i centri e viste le prestazioni visti i momenti di gioco e di alexis sanchez e lautaro deve partire dalla panchina visto che all'orizzonte ci sono due partite cruciali contro il napoli sabato in campionato e contro liverpool in champions league la risposta secondo me deve essere ponderata allora io sono convinto e rimango convinto del fatto che lautaro martinez sia sia il numero uno nell'attacco dell'inter e rimango anche convinto del fatto che la coppia d'attacco principale nell'idea di zaghi un'idea che comunque prevede variazioni sul tema non solo di partita in partita ma anche all'interno della partita la coppia principale c'è quella formata da da gioco e da lautaro martinez perché sono sono le due punte primarie ora è arrivato anche caicedo alexis sanchez sta dando una grossa mano manca correa che ovviamente è uno che in zaghi conosce molto bene e che è stato acquistato per avere un ruolo da protagonista però i due attaccanti principali sono geco lautaro martinez io vi ho detto più di una volta che ho la sensazione anche che sia molto importante per l'inter avere sempre in campo almeno per 80 82 85 minuti a seconda poi anche di come di come si sviluppa il risultato avere sempre in campo uno dei due o il numero dieci o il numero nove perché nei momenti in cui sono fuori entrambi all'inter manca manca un po di peso manca un po di riferimento lì davanti per cui la gestione deve essere deve essere elaborata in questo senso per quanto riguarda lo stato di forma per quanto riguarda il rendimento di questi attaccanti sono andato come al solito ad analizzare i numeri e i numeri dicono effettivamente che che lautaro è quello con le medie inferiori il rapporto minuti giocati partecipazioni dirette al gol quali sono i numeri geco è già arrivato a quota 20 in questa stagione ed è un numero straordinario per un attaccante che ha sempre dimostrato ovunque di essere un top player ma che è anche arrivato alla fase conclusiva della propria carriera e in estate non era visto come un colpo in grado di spostare così tanto gli equilibri quando è stato preso all'indomani della partenza di lukaku in pochi avrebbero scommesso appunto una partecipazione diretta a 20 gol 13 li ha fatti in prima persona 6 sono gli assist che geco ha fornito e arriviamo a 20 inserendo anche il calcio di rigore procurato in supercoppa italiana contro la juventus e poi realizzato da lautaro martinez geco ha partecipato direttamente dunque a 20 reti una ogni 111 minuti in campo numeri da top player assoluto il giocatore con la miglior partecipazione diretta in rapporto ai minuti rimane però alexis sanchez alexis sanchez ieri sera con quel bolide favoloso all'incrocio dei pali che ha impallinato rui patricio è arrivato a quota 10 in doppia cifra stagionale sempre contando tutte le competizioni campionato coppa italia champions league e supercoppa italiana dove alexis sanchez ha avuto un ruolo enormemente determinante sei gol fatti per alexis sanchez tre assist forniti e anche per lui un calcio di rigore procurato e poi trasformato da un compagno il minutaggio di alexis sanchez è stato decisamente più ridotto e i numeri dicono partecipazione diretta a un gol ogni 88 minuti in campo questo è il rugito del leone in gabbia questa è la dimostrazione della qualità dell'importanza che può avere alexis sanchez all'interno dell'inter chiaramente la sua carriera negli ultimi anni è stata è stata segnata dalla discontinuità fisica i minuti sono sempre molto pochi però quando sanchez è in campo è un giocatore che la partita la segna che la partita la decide infatti partecipa direttamente a un gol ogni meno di 90 minuti in campo è come se se propiziasse una una rete per match ha delle caratteristiche particolari bisogna sempre considerarlo come uno da utilizzare per porzioni di partita io ho anche l'idea non penso verificabile e non penso neanche così illuminata visto le specifiche perché l'inter funziona con questo sistema di gioco con questa conformazione però l'idea che sanchez possa essere l'innesco di due punte è un'idea che che è presente poteva funzionare più per il modo di giocare dell'anno scorso o per un altro sistema però sanchez più due punte è una cosa sostenibile anche perché è il più fantasista in assoluto nel comparto offensivo dell'inter però è un giocatore che in questo momento deve avere una una considerazione primaria in tutto questo lautaro che invece di gol ne ha fatti 11 tutti in campionato più uno ovviamente in in supercoppa italiana su su calcio di rigore 15 quindi 12 gol fatti e due assist forniti anche questi tutti in campionato sappiamo bene lautaro in champions non ha né segnato né fatto segnare ha una partecipazione diretta al gol ogni 136 minuti in campo in questo senso sembra il terzo nelle gerarchie però i numeri sono molto importanti vi ho regalato questa questa disamina puramente statistica perché poi per gli attaccanti i numeri fanno legge ma io credo che lautaro martinez abbia e ve lo dicevo anche ieri questa questa incostanza se volete soprattutto perché deve completare il proprio il proprio processo di maturazione lautaro martinez è un 97 lautaro martinez è un centravanti è uno che in argentina giocava in un modo è arrivato in italia e inizialmente ha fatto la gavetta come alternativa ai cardi perché spalletti credeva molto poco la possibilità di giocare con con quelle due punte poi con antonio conte ha sviluppato una una maturazione anche bruciante giocando però da spalla di un centravanti totalizzante come romelo lukaku adesso lautaro martinez quando gioca sia con gioco sia con alexis sanchez sia con correa è lui la prima punta anche se poi è portato per le sue caratteristiche per le necessità del calcio moderno a venire anche dentro a cercare di scambiare a proporsi come come spondatore come terminale di dialogo per per i centrocampisti in fase di impostazione però lo vediamo è più geco quello che si muove e lautaro martinez va a cercare l'area di rigore aggiungiamo il fatto che come vi dico sempre il centramanti e il portiere rispetto ad altri ruoli tendono con le dovute e straordinarie eccezioni a maturare un po più tardi io continuo a considerare lautaro un un giocatore in un processo di evoluzione che è molto vicino al compimento che ha già dato dimostrazioni decisamente nette e decisamente importanti però leggo la sua incostanza presunta incostanza perché poi i numeri non sono male in in questo senso continuano a avere nessun tipo di dubbio sulla prospettiva di lautaro martinez come come attaccante di rango mondiale questo è uno dei temi che che ci è stato presentato un altro tema è stato quello della gestione della partita visto che si è parlato tantissimo dei cambi di inzaghi nel nel derby simone inzaghi l'ha organizzata diversamente questa partita con la roma ha fatto qualche turnazione iniziale lasciando fuori ad esempio inizialmente defray in difesa e rilanciando d'ambrosio che è sempre elemento di grande affidabilità tenendo giù dumfries e dando spazio ad armian altra garanzia assoluta per tutti i compiti e per tutte le partite ha giocato vidal al posto di cialanoglu al punto è andato in panchina lautaro martinez i cambi sono arrivati un po più avanti sono arrivati quando la partita è stata è stata veramente non chiusa perché mancavano ancora più di 20 minuti ma diciamo indirizzata dal dal 2 a 0 di alexis sanchez per cui in questo senso c'è stata una una gestione differente ma anche qua il discorso l'ho fatto sulla sulla pillola che trovate qui sul nostro canale riferita proprio ai temi dell'inter e ai cambi di inzaghi nel derby può esserci stata anche una una gestione imperfetta in una partita che poi però ha visto proprio un cambio di vento un cambio di marea anche sugli episodi e anche sui meriti e le sostituzioni del milan però anche ammettendo e non è detto che sia per forza così però anche ammettendo che zaghi abbia sia stato imperfetto appunto nei cambi io credo che il lavoro dell'allenatore dell'inter in questa stagione sia un lavoro straordinario un lavoro veramente gigantesco un lavoro che debba essere esclusivamente applaudito ultimo tema in casa inter quello dell'infortunio di bastoni bastoni è squalificato per le prossime due partite in campionato contro il napoli e contro il sassuolo in mezzo c'è però quella con liverpool e bastoni ha abbandonato il campo per una distorsione alla caviglia che abbiamo visto tutti fortuita incidentale sfortunata ma anche piuttosto seria oggi sono arrivati gli esiti degli esami si parla appunto di di trauma distorsivo e in ottica gara con liverpool non so perché perché poi ovviamente bisogna valutare internamente bisogna vedere cosa si riuscirà a fare a livello medico a livello di fisioterapia però una distorsione del genere è difficile da assorbire in in una settimana quindi che tipo di soluzioni alternative può trovare in zaghi perché bastoni è un giocatore centrale non solo per per l'impermeabilità difensiva della squadra ma anche per per i meccanismi di costruzione e di finalizzazione visto come si butta dentro il centrale mancino dell'inter le soluzioni potrebbero essere quelle di schierare un altro centrale mancino per non rinunciare al giocatore con il piede forte in quel settore e anche con possibilità di spingere di di proporsi e di crossare e quindi la scelta potrebbe andare su di marco con magari in ottica partita con il napoli che comunque ripeto bastoni avrebbe saltato lo stesso per la squalifica con magari però il leggero scompenso di dare a politano la possibilità di rientrare sul mancino e di andare ad attaccare il piede meno nobile di di marco da quella parte perisic che rimane un giocatore straordinario ha fatto un assist perfetto ha avuto anche un'altra un'altra situazione da gol come come gli era capitato nel derby perisic è uno dei fattori più importanti e assoluti dell'inter di quest'anno ma direi dell'inter da inizio 2021 in avanti perisic è chiaramente un giocatore di spinta e difensivamente potrebbe non esserci sempre quindi quello potrebbe essere un fattore tattico di di napoli inter ma lo vedremo cosa ha fatto in zaghi invece ieri sera ha messo devrei mandandolo al centro della difesa mantenendo d'ambrosio come centrodestra e traslocando scriniar dall'altra parte scriniar che che ha incrociato le piste a quel punto con abram si è preso una sgasata dell'inglese ma ma si è dimostrato come sempre un grande muro un avversario quasi impossibile da superare nel duello individuale in questo senso potrebbe avere spazio d'ambrosio ancora sul sul centrodestra è una una situazione una situazione interessante perché anche in questo caso scriniar andrebbe a tamponare da quella parte ma dall'altra napoli arriva dentro con insigne e allora a quel punto avere uno scriniar che che si para davanti insigne sarebbe un'altra cosa bel ragionamento per avvicinarci alla sfida di sabato questi direi i temi i temi dell'inter detto di perisic detto anche di barella che che ha giocato un'altra un'altra partita da da fiammeggiante dinamo del centrocampo con quella traversa quasi di velta all'inizio e anche quell'altro splendido tiro all'incrocio dei pali parato molto bene da da rui patrissio l'inter ha vinto meritatamente ha vinto dando delle dimostrazioni portandoci questi spunti di discussione e prendendosi una semifinale di coppa italia che pone sempre più l'inter ai vertici del nostro calcio e con l'etichetta di squadra da battere indipendentemente dal fatto che abbia perso il derby dall'altra parte la roma la roma esce esce da una competizione che poteva rappresentare un obiettivo che era poteva rappresentare una possibilità di titolo per giosè maurigno io credo che la roma ancora una volta abbia abbia dimostrato fondamentalmente di avere un gap rispetto alle alle squadre primarie del nostro campionato non è stata travolta come è successo invece nello scontro diretto in in campionato dall'inter all'olimpico però c'erano anche condizioni diverse quella era una roma con tantissime assenze con una quasi impossibilità di schierare una una formazione coerente sul campo mentre la roma che abbiamo visto ieri sera ripeto si è dimostrata un gradino sotto rispetto all'inter ha avuto una buona fase come vi dicevo prima nella prima metà del del secondo tempo perché hanno trovato il modo di girare i tre davanti che con questo tipo di sistema di gioco con questo tipo di piano partita sono forse gli unici tre che possono veramente accendere offensivamente la squadra mechitarian che in quella posizione di trequartista è assolutamente irrinunciabile e lì trova gli spazi giusti per per scaricare tutta la propria capacità calcistica e questa coppia d'attacco che è sempre più intrigante che è sempre più rodata che è sempre più omogenea formata da ebram e zaniolo zaniolo ha avuto un'occasione nel primo tempo zaniolo ha avuto la palla del pareggio nel secondo quando ebram ha fatto la giocata migliore della sua partita quello che vi dicevo prima via deciso netto su screener e poi grandiosa sensibilità nell'assist incrociato ebram in questo senso continua a dare messaggi di crescita e messaggi di potenziale si diceva che sbagliava dei gol guardate le cifre realizzative di ebram lo si considera un numero nove fisico un numero nove d'area di rigore e invece no ebram è un giocatore che partecipa tantissimo al lavoro della squadra a volte fin troppo perché deve abbassarsi deve allontanarsi dalla porta ma ebram è un giocatore che in tutte le partite crea almeno un'occasione per i compagni fornisce assist fornisce passaggi chiave fornisce gioco alla squadra è uscito infortunato ebram pare che sia però un problemino di poco conto una sorta di affaticamento al flessore della coscia quindi almeno lui non dovrebbe non dovrebbe mancare nella partita importantissima che la roma domenica alle 18 contro il sassuolo e a fare coppia con ebram vista la squalifica di zaniolo ci sarà probabilmente felix che è un ragazzo ancora grezzo ancora da rifinire ancora bisognoso di crescere però anche lui è uno che di impulsi ne dà e può garantire quegli strappi anche se con qualità e continuità diverse che sono ormai il calcio quotidiano di zaniolo zaniolo sta vivendo ancora una volta tempi un po' turbolenti domenica abbiamo visto tutti quello che è successo il gol che ha fatto e poi stato annullato il cartellino rosso che gli è stato dato e perché tutti parlano di zaniolo tutti commentano tutti pungono questa figura che sia una figura che ha la necessità di quadrarsi ma parliamo comunque di un ragazzo molto giovane però calcisticamente stiamo parlando di uno dei talenti più 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 puri e limpidi che abbiamo e questo è indiscutibile e anche zaniolo ieri sera a proposito di talento ha regalato la giocata più alta di una partita che di giocate ne ha avute e parlo di quell'azione poi annullata diciamo per fuori gioco però il modo in cui arriva prima di andanovi ce lo supera e trova lo specchio della porta senza equilibrio senza coordinazione col suo splendido mancino è la dimostrazione ancora una volta che qua siamo di fronte a un calciatore con i crismi del campione poi il campione lo è a tutto tondo e lo è anche al raggiungimento del del punto definitivo di maturazione cose che zaniolo dovrà fare però però questi colpi questi colpi ci sono e in quell'azione perché vi dico la giocata più splendente di tutta la partita un altro colpo da campione è stato salvataggio di screener tutto poi ribadisco invalidato dalla posizione effettiva di fuori gioco di partenza di zaniolo però screener come arriva come si gestisce e come rimane lucido e preciso nel accarezzare di testa tuffandosi il pallone fuori dimostra anche lui difensivamente con altre specifiche e in altri ambiti di essere assolutamente un un campione zaniolo non ci sarà per la roma contro il sassuolo mancherà il giocatore che crea più pericoli in assoluto che che dà più di tutti cambio di passo sia a livello di velocità sia a livello di possibilità tecniche alla squadra e allora veniamo a quello che secondo me è un tema centrale in questo momento nella roma ovvero la proposta di gioco perché la roma è una squadra che ha bisogno di robustirsi che ha bisogno di crescere che ha bisogno di acquisire maggior maturità che è stata un po la parola d'ordine degli ultimi giorni per anche una squadra che ha bisogno di trovare una via a livello di gioco a livello di proposta a livello di scelte proprio di uomini e di identità e in questo senso il discorso che vorrei fare con voi riguarda il centrocampo della roma perché lì dovranno esserci delle scelte delle scelte cruciali che potrebbero anche riflettersi in generale sul modo di giocare di questa squadra perché sia maurigno quest'anno che fonseca nel suo ciclo sono partiti con l'idea di un 4 2 3 1 o comunque di una difesa a 4 e poi di una squadra che potesse e volesse giocare a calcio con sei uomini di costruzione fra centrocampisti trequartisti e attaccanti ed entrambi sono arrivati molto presto alla conclusione che la squadra doveva essere schierata con una difesa a 3 e di conseguenza con un uomo in più dietro e un uomo in meno davanti la roma continua lo stesso a prendere tanti gol li prendeva l'anno scorso li prende anche quest'anno quindi è una difesa che anche più più imbottita non garantisce grande e totale affidabilità e ieri sera peraltro smalling che dovrebbe essere il capo saldo l'abbiamo visto distante da ceco su un gol che ha aperto immediatamente la serata tornando al centrocampo maurigno deve scegliere fondamentalmente due uomini fra quattro profili tutti con delle caratteristiche e delle qualità che li imporrebbero come giocatori molto importanti se non irrinunciabili e i quattro sono Sergio Oliveira arrivato dal mercato arrivato subito in grado di dimostrarvi di essere giocatore di essere elemento importante le prime due partite sono state magnificenti le ultime due con Genoa e Inter un pochino più opache però non si poteva neanche pretendere che Sergio Oliveira segnasse facesse assist o procurasse calci di rigore in tutte le partite però io ero anche all'olimpico sabato a commentare Roma Genoa è vero che è uscito presto però in un primo tempo in cui la Roma aveva la palla ed era un pochino un pochino accasciata un pochino molle nella partita non riusciva a travolgere l'avversario sul piano dell'intensità Sergio Oliveira diventava una calamita di palloni uno smistatore sempre affidabile oltre che uno che con le sue qualità su calcio piazzato e con i suoi inserimenti ricordate quel sinistro finito sul fuori sul primo pallo nel primo tempo contro il Genoa l'unica vera occasione della Roma è un giocatore che appunto ti può portare anche spunti individuali in grado di arrivare alla rete Cristante è un giocatore che Mourinho nella prima metà di stagione non ha tolto praticamente mai perché lui voleva un centrocampista lui parla sempre di un regista secondo me anche di magari di un frangifluti di un giocatore con con chili con centimetri che dia che dia forza nel gioco aereo vuole questo tipo di giocatore e Cristante è molto difficile da togliere in questo impianto di squadra che che fatica a trovare i propri equilibri e la propria continuità di espressione tecnica Veretù è quello che è finito in panchina fondamentalmente con con l'arrivo di Sergio Oliveira ed è vero che questa stagione di Veretù sta risultando un po' meno brillante rispetto alla stagione scorsa ma ha sbagliato anche un paio di calci di rigore uno in campionate uno in conference league ha avuto dei periodi con con assist e gol e dei periodi invece anche con con giocate sbagliate con errori però anche in questo caso parliamo di un giocatore che non è stato mai messo in discussione nella sua avventura romanista se non nelle ultime settimane in più c'è il capitano c'è Pellegrini che è rientrato ieri sera nella parte finale di partita che è stato il capo cannoniere della Roma nel 2021 che è un giocatore che quest'anno ha avuto tanti problemi fisici ed è mancato tantissimo perché quando c'è stato è sempre stato decisivo e risolutivo Pellegrini è un trequartista, Pellegrini è una mezzala, Pellegrini è un interno puro Pellegrini è uno che può fare tante cose ma che forse fino adesso in carriera ha un pochino pagato il fatto di non essere mai stato specializzato in una posizione di cambiare sempre di partita in partita partner, dinamiche, posizioni, compiti ma Pellegrini è un altro punto fermissimo di questa squadra ecco di questi quattro ne giocano fondamentalmente due a partita perché Mkhitaryan non si può togliere specialmente in quella posizione Allora, la domanda che vi voglio porre, un possibile sviluppo di discussione è visto che la difesa comunque anche con l'uomo in più non è così impermeabile e che giocando contro i centrali si chiede ai laterali di arrivare a fornire contributi tecnici la Roma contro il Genoa è arrivata tantissime volte, specialmente nel primo tempo con Maitland Niles a sinistra e con Karzorpa a destra difettando però di qualità al momento della giocata perché anche Karzor sta facendo una stagione inferiore rispetto a quella dell'anno scorso sul piano anche puramente degli assist nel campionato scorso ne ha forniti sei in questo solo uno contro l'Ellas Verona Maitland Niles è un jolly però non è uno specialista di questo ruolo c'è fuori Spinazzola e speriamo che possa rientrare quantomeno per la parte finale della stagione è stato preso Vigna e Vigna non è Spinazzola Vigna secondo me è un buon giocatore però non ha quella qualità che dà degli impulsi veramente significativi nella metà campo avversaria viste queste caratteristiche pensare magari di tornare all'idea della difesa a quattro con Vigna che a sinistra troverebbe condizioni anche più abituali per lui Vigna non è un laterale a tutta fascia Vigna è un terzino sinistro così si è imposto nel Palma-Iras, così gioca in nazionale è un terzino sinistro che sa proporsi ma è un terzino sinistro magari pensare anche a un terzino più roccioso e più bloccato anche a destra dando qualche partita di riposo a Karzab lo può fare Maitland Niles si può anche pensare di allargare lì un centrale perché Ibagnes il terzino lo può fare quindi togliere un uomo alla difesa a tre o a cinque ma bloccare un po' di più i laterali per inserire un uomo in più in mezzo al campo in modo da contribuire maggiormente al lavoro del pallone o sulla tre quarti con Pellegrini avanzato assieme a Mkhitaryan Zaniolo che può prendere benissimo anche la posizione di Mezzala lo ha chiarito Roberto Mancini l'ultima volta che gli hanno chiesto il ruolo di Zaniolo se questo ruolo di seconda punta potesse essere la sua definitiva evoluzione lui ha detto per me è una straordinaria Mezzala all'attacco per me Zaniolo può fare tantissime cose l'esterno in un 4-2-3-1 a piedi invertito la Mezzala, la seconda punta, il tre quartista può fare tantissime cose deve completarsi ma può fare tantissime cose però questa potrebbe essere un'idea non so quanto frulli la testa di Mourinho non so neanche se possa essere l'idea giusta perché poi magari si tornano a vedere degli squilibri anche maggiori e siccome due tecnici diversi ma ugualmente di primo livello come Mourinho e Fonseca hanno dovuto abbandonare questa idea allora forse è impraticabile però visto il momento della Roma vista la stagione della Roma viste le pedine che ha a disposizione Mourinho mi veniva da fare questo ragionamento e da proporvelo bene abbiamo parlato della partita abbiamo parlato delle squadre abbiamo anche un po' giocato di preview sui prossimi impegni come l'Inter può schierarsi dietro contro il Napoli come la Roma può risolvere questo problema di essere ancora incompleta di essere ancora distante dalle regine del nostro calcio e questo problema di dover proporre qualcosa di più adesso ci avviciniamo alla partita di stasera fra Milan e Lazio poi domani le ultime due gare dei quarti di finale di Coppa Italia Atalanta Fiorentina e Juventus Sassuolo in mezzo ci sono le semifinali di Coppa del Rey in mezzo c'è il Mondiale per Club in mezzo si gioca in Premier si gioca dappertutto quindi avremo tantissime cose di cui parlare in questi giorni e ci vedremo prestissimo e spessissimo sempre qui sul nostro canale per parlare di grande calcio grazie a tutti i nostri spessi